Pronti? Via! Siamo di nuovo qui per parlare di Multiple Flight Mode È incredibile quanti ce ne siano ed è incredibile quanti filmati si è riuscito a fare riguardanti questi Multiple Flight Mode Andiamo a dare un'occhiata all'interno del menu, nella seconda pagina ormai, che cos'è l'opzione Follow Me L'opzione Follow Me è una semplicissima impostazione che ci permette, alzando il mezzo ad un'altezza minima di 10 metri Eccolo qui Di seguire il radiocomando Non mi piace particolarmente questo tipo di impostazione Perché è meno precisa, vedete, della impostazione legata al Follow Me tramite il tracking È molto meno preciso e non ha le stesse funzionalità piacevoli come il tracking mode Tant'è che spesso mi perde anche da un punto di vista di inquadratura È un metodo un po' più vecchiotto per seguire la persona Potrebbe essere utile se abbiamo la necessità di farci seguire sul radiocomando Ma, vi ripeto, secondo me, su queste impostazioni quella più azzeccata di tutte è proprio il tracking mode Con le tre sub-impostazioni di cui abbiamo parlato prima Non mi inquadra bene, non mi piace Questa è una delle poche impostazioni del nostro Phantom 4 Pro per il Multiple Flight Mode Che non mi soddisfa abbastanza Seguitemi sul mio canale, iscrivetevi al mio canale Cliccate mi piace sui miei video e guardatevi le prossime puntate